ciao ciao amici benvenuti bentornati qua sul mio canale sono il carletto e sempre qui a fare una delle mie recensioni pazze ma oggi in fortissimo ritardo quello che vado a presentare ma perché perché sappiamo che sta uscendo la collana di jig in edicola un jig enorme per tutti i gusti alto ben 70 centimetri che andiamo a completare con diverse uscite lui sembra fatto veramente bene noi adesso cosa faremo in questa prima recensione andremo a montare i primi 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 quattro pezzi ecco qua si è già sgangherato tutto questa è l'uscita numero 1 a 299 che ci regala vedete delle parti qua ci abbiamo il librettino illustrativo qua ci abbiamo i e che vi farò vedere anche questa cosa qua adesso le andiamo ad aprire i libretti illustrativi ve li faccio vedere tutti montiamo le prime quattro uscite perché io di queste cose qua purtroppo che costano un sacco non riesco a farle tutte ma mi piace fare che molte volte come per la iron man e il goddre nelle prime uscite riusciamo a fare la testa che a me piace poi tenerla magari sulla scrivania lo vedremo poi intero quando il buon andrea di dragons il farloccone praticamente lo farà tutto quindi poi comunque lo vedremo anche tutto quanto montato grazie ad andrea per adesso vi faccio vedere la composizione della testa che si illumina anche vi faccio vedere i primi quattro libretti di istruzione perché ricordo che bastano solo quattro numeri per fare la testa intera da tenere sulla scrivania vi faccio vedere una cosa carina che secondo me però ve la faccio vedere dopo nel dettaglio ha voluto fare il produttore bella 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 e comunque dai montiamo le prime quattro uscite che sono fatte così vedete io vi faccio vedere monto già la base vi faccio vedere i libretti poi faccio vedere due tre cose interessanti e comunque andiamo a comporre per adesso la testa poi lo vedremo tutto per intero dai vediamolo vediamolo eccoci qua abbiamo montato le prime quattro uscite ragazzi nella prima uscita nella seconda abbiamo il cartonato vedete ci fa vedere piano dell'opera un po come vi faccio vedere subito subito adesso allora i volumini allora questo qua è il volume numero uno all'interno cosa troviamo ci spiega come montare le prime parti di qua le parti che usciranno dopo e qua guardate in ogni uscita cielo possiamo ritagliare un poster carino carino adesso vi faccio vedere i primi quattro qua c'era la testa delle nostre gig poi nel numero due solita cosa questa la parte illustrativa poi abbiamo i roshi nella sua corsa in macchina parti che come andare a montare le altre parti poi abbiamo il 3 la regina imica guardate qua in versione diabolik proprio arrabbiatissima fa sempre comandare a montare vedete le parti quindi molto mi aspettavo qualche disegno dell'anime tutto ma sicuramente nelle li vedremo nelle prossime uscite qua i guanti di roshi col ciondolo e qua sempre allora queste qua sono le prime quattro uscite che ci permettono di montare la testa come ho detto qua ragazzi vi faccio vedere la testa qua è montata l'ho lasciata aperta così perché guardate hanno fatto questa cosa che parlando con andrea che saluto come ho già detto di dragons simula il corpo il corpo secondo noi robotico ormai di roshi ma comandato dal cervello umano vedete secondo noi simboleggia un pochettino comunque che il gig è comandato dal cervello umano vedete che hanno messo qua all'interno di i roshi poi sotto qua c'è il sistema con un tastino che si va ad accendere vedete schiacciando il naso questa qua è molto bella secondo me da tenere esposta anche solo come testa vedete perché ci dà la possibilità di tenerla appoggiata così in scrivania e io le prime quattro uscite per quello che spendiamo la farei perché allora guardate così la possano tenere così nike ed o staccare anche la parte qua tenere proprio la parte meccanica interna col cervello però forse così o intera è la modalità secondo me migliore vedete fatta bene non si vedono tanto i punti di aggancio adesso in diretta cosa facciamo gli andiamo l'andiamo a chiudere vedete cosa vi voglio far vedere guardate anche il collo fatto benissimo anche come diciamo punto per poterla vediamo se ho detto una cavolata devo mettere forse prima l'altro prima questo dai fatemi montare un secondo questo qua e ve la faccio vedere anche chiuso eccola qua l'abbiamo chiusa si prima a mettere il pezzo di sinistra e poi quello di destra vedete ragazzi lo scult non è male l'unico difetto è questa secondo me linea dovremo metterli all'interno un po di colla e tenerla più unita possibile però poi non lo possiamo più aprire perché c'è questa linea qua e questa apertura con questa linea qua che sono le due un po ma gagnette vedete questa linea qua non mi piace un granché però vabbè se ce l'abbiamo così in vetrina ragazzi fa la sua scena comunque anche adesso la vediamo girare un secondino fa la sua scena questa qua vedete così illuminata non è male vedete guardate qua secondo me poi andata a completare questa testa qua vedete non è male quindi per chi non vuol spendere tanto la testa la facciamo con due un'uscita da 2 2 e 99 un'uscita da 6 99 e uscita da 9 quindi 10 20 30 euro meno di 30 euro quindi per tenerla così in vetrina non è poco non è poco ragazzi 30 euro è infatti non saprei se consigliarlo no però potrebbe essere vedete così anche accettabile se abbiamo un hiroshi o vogliamo mettergli la testa vicino comunque al gig non è non è male però sono sempre comunque 30 euro di spesa hanno fatto bella questa cosa che invisibile l'accensione degli occhi tramite il naso che adesso non si accende più come mai si è scassato ho trovato e ragazzi non rimane veramente più si è smollato devo riaprirla mamma mia non le rimaccio mai a ma devo riaprirlo un secondino dai vediamola girare eccolo qua eccolo qua allora ci sono due o tre magagnette che rompono un po le scatole allora se spingiamo tanto il naso la parte dove c'è l'interruttore dove c'è la resistenza all'interno dell'interruttore si spinge all'indietro poi non si blocca più dobbiamo riaprirla ritirarla fuori quindi state un po attenti e gli unici due agganci un po che ho trovato difficoltosi sono quelli degli occhi perché sono piccolini e uno si è praticamente già rotto però vabbè sta sullo stesso perché sono due vedete adesso sono andato a sistemare il nasino quindi adesso rimane acceso perché c'è quell'interruttore interno diciamo che così tutto sommato è bella è bella secondo me fatta veramente bene l'unico difetto che la mascherina della bocca diciamo della parte davanti andava secondo me fatta in un pezzo unico perché non si sarebbe vista questa linea linea odiosa andava fatta a incastro vedete questa parte qua andava fatta a incastro e non in due pezzi perché la cosa secondo me è più brutta di questa testa di gig che adesso vi andrò a stupare vediamo se riesco mentre è dritta no non ce l'ha fatta andiamo a girare al contrario non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta questa dovrebbe girare anche al contrario non gira più non gira più ecco la gira sapete che sono pazzo non le rifaccio mai ma mi diverto anche così mettiamola proprio drittissima vedete la cosa che mi dà fastidio è questa linea vedete questa linea sulla bocca che se noi anche andiamo a stringere comunque non riusciamo ad eliminare andrebbe messo un po di colla un po di stucco però è l'unica cosa e c'è da dire che comunque 30 euro non non sono non sono poche state attenti al nasino perché ha quella cosa della resistenza dai comunque l'abbiamo vista più che bene andiamo a concludere possiamo dire che questo gig dell'edicola almeno nelle prime quattro uscite che ci permettono di andare a costruire la testa ragazzi vedete non è niente male lo scupt c'è bellissimo secondo me lo scupti di questa testa ma avrebbero dovuto già come detto fare questo questa parte qua unica perché mi si vede questa linea qua che mi dà un fastidio enorme state attenti questa cosa qua è l'unico difetto estetico se vediamo la testa perché per il resto secondo me è veramente carina va considerato però che ci sono due o tre magagne gli agganci degli occhi sono piccolini state attenti che si possono rompere e il pulsantino del naso che accende gli occhi schiacciatelo piano perché se vi va all'interno dovete riaprirla per ritirarlo in fuori però guardate che effetto scenico così guardate che bella così mi piace veramente un sacco così e tenterò di far sparire questa linea qua la stucco la metto bianco perché mi dà fastidio questa linea perché se noi leviamo questa linea secondo me è veramente bella ricordo che se la vogliamo fare con le prime quattro uscite siamo sui 30 euro io non farò tutto il piano dell'opera ma ve lo faccio vedere con finito grazie all'amico andrea di dragons e che dire se avete qualche soldino da buttare via o spendere comunque fatelo fatelo tutto perché comunque se giga è sempre giga io mi accontento della testolina che adesso andrò a modificare questa linea e va bene così saluto dal carletto come dico sempre like al video se vi è piaciuto attivate la campanellina come verranno tutte le notifiche delle mie recensioni pazze ma soprattutto se non l'avete ancora fatta e non riesco a capire com'è possibile iscrivetevi al canale ciao ciao dal carletto e dalla testa di rossi di di trasformate in gig e va lanciami componenti stanno arrivando arrivano i rossi cosa vuoi che componente vuoi di cosa hai bisogno ciao ragazzi grazie a tutti